Eleonora Paganucci, artista, espone qui a Piaggia la sua prima mostra fotografica dal titolo Primum. Come nasce questa mostra? La mostra nasce in collaborazione con Gabriele Polverari, che ha visto le mie foto su Facebook e mi ha proposto di esporre qua. Le collezioni sono tre, una è 1600 ISO, che nasce da un progetto universitario, il racconto della vita attraverso le mani, dal neonato all'adolescente fino all'anziano. Il secondo progetto è Saro Breve, che parla di un viaggio attraverso le stazioni di Fano, un invito a non scendere perché la vita può continuare anche attraverso vari viaggi. La terza collezione è Patria, che parla degli anziani del mio paese, sono dei volti segnati dalle rughe dal tempo che raccontano la propria storia privata di questi anziani. Ecco Eleonora, cos'è per te la fotografia? È solo un modo di esprimersi o qualcosa di più? Io fotografo per me stessa, perché mi emoziona e spero di poter raccontare anche a chi vede le mie foto quello che sento io nel momento che fotografo. Grazie a tutti.